Da Cenerento la regina dal primo all'ultimo minuto, dall'ultimo posto alla vetta della classifica. La Salernitana sbanca Poggi Bonzi nell'anticipo della quattordicesima giornata del campionato di seconda divisione. Decidono Ginestra e Mancini, il Cobra al primo minuto della partita, il Genio all'ultimo secondo utile della ripresa sul rigore. In mezzo un buon Poggi Bonzi, Perrone, conferma tutte le indiscrezioni della vigilia. La Salernitana con il 5-3-2, con Zampa al posto di Montervino in mezzo al campo. Lanni e Cristiano Rossi sugli esterni ed il tandem Ginestra-Guazzo in avanti. Al primo giro di orologio, davanti ad oltre 500 supporter Granata, la Salernitana passa in vantaggio. Mancini da fuori area carica il destro, la palla viene murata dalla difesa. Ma arriva Ginestra che dall'altezza del dischetto trafigge Menegatti. Il gol condiziona l'avvio dei Toscani, che comunque si rendono pericolosi con la premiata ditta Ilari Pera. Mister Fraschetti deve rinunciare a Dal Bosco squalificato, ma conferma il modulo formato casalingo. Al terzo minuto Pera inizia il suo personale match con Iannarilli. L'attaccante ci riprova al dodicesimo, ma il portierone Granata chiude la sarracinesca. Perone prova a farsi sentire dalla panchina. Al ventesimo i Granata escono dal guscio con il solito Mancini. Il genio ex Verona cerca l'angolino, ma il portiere respinge. Un minuto più tardi i Toscani si affidano al solito Pera. Iannarilli però è in giornata di grazia. Prima dell'intervallo, al quarantunesimo, il capitano del Poggi Bonzi si inventa un destro d'incontro che il numero uno Granata devia da par suo nella ripresa. La musica non cambia. Al sedicesimo il portiere della Salernitana rispinge con i pugni e Molinari perfeziona il disimpegno. Al ventiduesimo l'azione che potrebbe chiudere il match in favore dei Granata. Cristiano Rossi, tra i migliori, effettua un preciso traversone in area. Guazzo l'appoggia di petto per Zampa che arriva al rimorchio ma la spedisce alle stelle. Proprio quando meno te lo aspetti. E nel modo più ingenuo la Salernitana incassa il pareggio. Corre il ventisettesimo. Zampa commette fallo e la Salernitana si addormenta. I padroni di casa battono subito e Pera si trova davanti a Iannarilli sul suo diagonale. Stavolta il numero uno non può nulla. Perone tira fuori Ginestra e inserisce Gustavo. Peccato per il giallo del Cobra che lo manda in diffida proprio prima di lasciare il campo. Al trentanovesimo il brasiliano sfiora l'eurogoal su punizione. Menegatti respinge e Cabua subentrato in maniera perentoria a Zampa lo centra in pieno. Prima della fine però ancora emozioni. Tante Pera in contropiede. Ancora lui potrebbe regalare il successo ai Toscani ma Iannarilli gli dice di no per ben tre volte di fila. Il direttore di gara concede tre minuti di recupero e dall'ultimo secondo utile Perpetuini con un colpo da biliardo libera Guazzo davanti a Menegatti. Il portiere lo stende. Rigore, espulsione e Poggi Bonzi che deve mandare in porta il suo capitano Pera perché ha già effettuato tutte e tre le sostituzioni. Dopo un paio di interminabili minuti di attesa il direttore di gara fischia. Mancini dal dischetto la mette dentro facendo esplodere di gioia tutta la torsida granata. Lotito compreso che applaudiva in tribuna.